musica questa mappa contiene jumpscare che potrebbero turbare le persone se soffri di un pochettino di depressione per qualche visualizzazione di flash o roba del genere non sto guardando questa mappa ok allora quindi benvenuti con il nostro porter quindi questo è capitolo 3 l'incubo ah sarà bello divertente che bello 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 altri mesi da reggere hey ted ho una fantastica idea per uno scherzo hai presente quei manichini difettosi nella fabbrica del settore 88 Sarebbero perfetti per poter essere usati Per questa cosa qua E tu mi potresti aiutare Prima Di finire Voglio dirti Make sure you call item 2 Maxwell take care of factories Ok Ah ok allora Dobbiamo andare di sotto A prendere i Manichini del Del factory 88 Cioè della zona 88 Che sono difettosi Chissà per quale motivo E andiamo di sotto Quindi questo È ori prima Di ciò che succede Allora 88B factory Quindi vai andare da qui E sta parte Credo sia questo l'88B Allora sembra un pochettino distrutto Tutto quanto non mi chiedo nulla Per quale motivo lavorare in questo posto Perché devi lavorare in un posto del genere Ragazzo mio È un po' inquietante No? Non è un po' inquietante Allora Windows 7 È Windows 7 Ok ora che sei laggiù Prendi alcuni Un paio di manichini E portali in giro Per gli uffici Ti mando un'altra mele Appena hai fatto tutto quanto Quindi ci vediamo dopo Ok dobbiamo impostare Tutto quanto E intanto per quale motivo Ok non mi chiedo dell'immagine di Ted Ma va bene Mai se so che mi farei combinare guai Ok 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 Sono 7 manichini? 7 manichini Ok ci sono altri 7 Ah ok ho 7 manichini Nelle mie spalle Non è una cosa divertente? Quindi 14 manichini Ok dobbiamo portare Questi manichini Verso la zona Quindi andiamo verso la zona A portare questi manichini Peccato che non vengono distrutti Da quel coso lì Sarebbe molto divertente Ah Ok Quindi Dovrei portarli Da qualche parte Ho un'idea Ho un'idea Ho un'idea Ho un'idea Guardate Così almeno chi entra Ha un bello spavento Yeee Spero non facciate nulla di buono Ok ragazzi Allora dovrei andare Fantasico lavoro Perfetto Prima che te lo chiedi Prima che te lo chiedi No non verrai mai Preso per questo Ho disabilitato Tutte quante le telecamere Quindi nessuno saprà mai Quello che succede Grande mai Sei proprio un genio Sei fantastico Appena il tuo lavoro è finito Puoi andartene tranquillamente A lavoro E spegnere tutto quanto le luci Non ci sarà nessuna Nottata Non ci sarà nessuna Nottata Non c'è nessuna persona Che lavora alla notte E quindi Il laboratorio Sarà chiuso Ehm Prendiamoci un bel moka No? Vorrei prendermi un moka Ok Scendiamoci Na 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 Wait What the fuck Ma Che Cosa Faccio Io Qui E voi ragazzi Ok 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 Va bene Perché Non Si ci sta Ci sta A prendere Si sta Andare a prendere Del moka Della moka Proprio Mi scusi lei Ho detto Mi scusi lei Vorrei andare Da quella parte Dovrei andare A prendere un moka No? Va bene I feel like These mannequins Are tragically Blocking me From the break room Dovresti preoccuparti di questa cosa qua Na 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 Oh Quel tizio mi sembra morto Na 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 Quello era quello che stava bloccando la mia area Vero? Si che era il tizio qui Ehm Non penso che dovrei andare Salve Questa è la mia poltrona Che mi dice se io mi metto lì No? Ok grazie Ti adoro anch'io Wait a fucking minute Pensavo che non c'era prima qui È stata lei vero? Ok Oh Hello From the other side Ok questa cosa mi preoccupa Quindi chiudi la porta qui I robot qui se mi sono andati Che peccato Ah cazzo Mi sembra Se avendo una keycard Keycard di merda Ah Beh almeno ho scoperto dove sono fini tutti quanti Ciao ragazzi Come state? Scommetto tutto bene Oh Ehi Amigo Come stai? Ok Fuck you Fuck you Very 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 Voi mi prendete per il culo perone No 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 Fuck you Oh mio dio Ah salve Come sta? Tutto bene vero? Io male Ok Ok Va benissimo Sta cosa non mi sta terrorizzando No 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 Molto divertente Molto divertente Molto divertente Giocare qui Chi me l'ha fatto fare Di andare Qui? Ok Allora Sono contento che tutto va bene Ma non sono contento del sangue Perché in portal 2 Non c'era sangue È stato divertente Giocare In allegria C'è solo un inconveniente Devo andare Guarda Wait what? What the fuck? Ehi 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 No Ehi Ehi No 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 Wait a second Posso prenderli in brano? In brano spattuto No Senti No Ok Dove ti appoggio Senti C'è una bella cosa Posso mettere qua su? No 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 Ehi 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 Oh Let's go Ehi Oh Let's go Tananana Ah Beh è caduto per terra Non credo che mi faccia del male Stai calmo No No Non mi che non è interno al portale Focchio 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 Salve Lei è Nuovo qui Passare Grazie Allora Se fossi una persona normale Dovrei andare sull'ancima Una mano signore Servirebbe solo una piccola mano Signore si può spostare Grazie Ah Ok Wii Ho una kickan Ehi Non sei più lo stranso Non sei a me che vuole vero Nemmeno tu lo sei Bravi Allora Allora Sento privi Di grandi Come una No 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 Focchio 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 Andai da questa Nananananananananananananananana Somebody with spaghetti Gompare e paletti Oh Focchio Spare e paghe Che vanno a fanno Puro con dei manichini Allora A der de Gangeon Tu prova a muoverti Tipo di da cazzotti Telecamera Almeno potresti avvertire Qualcuno No Ti hanno spenta Perché porca puttana Giù Rimaneli Cantacci Sto Cantacci Sto Sento A questo gioco dicevano Cosa vuoi che possa succedere dicevano Se provate a muovervi Io vi spezzo in mille pezzi E vi faccio i spaghetti Vero? Ehi Sono un ominide Sono uno di questi omini Ciao amico Ciao amico come stai? Tutto bene? Questo suono mi piace ancora di meno Ora So già che è il cliché degli secoli Disattivo la corrente Succedono i guai Guardate Nulla arriverà addosso a me Nessun fottuto oro Ma soprattutto Soprattutto non succederà nulla di male Mamma mia Ehi Ho un'idea Ciao No Fuck off Ah vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua Ok E uno Tu non ti muovi Bravo Non ti muovere Non vale Ehi No 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 Ehi Oh Buona notizia E che era tutto un sogno E si stronzi sono ancora qui E' stato un piacere conoscere i ragazzi E' stato un fottuto piacere Grazie e arrivederci E' stato divertente Zoccare in allegria Ok home sweet home Siamo tornati a casa E Che cazzo ci vai con una pistola qui Taccata al letto I keep teaching my math just in case Ah ok va bene Potevi portartela dietro durante il sogno Sparare a qualche bastardo Way what the fuck Ok questo è strano Ma questo lo è ancora di più What the fuck Ragazzo la pistola Preoccupati What the fuck Ok Wow what the fuck Grazie per non For not watering Longer than twenty minutes You're keeping out Nelchman's fair clean Ok Cos'è questo E' lo spazio impossibile Come Salve Come state Tutto bene vero Spero bene anche voi Ok Non sento una porta dietro di me Oh salve Wey No Ehi Siete un po' in tanti Siete un po' in tanti Ragazzi miei Siete un po' in tantini E c'è la mia pistola Chi ammazza per primo Ho sei colpi Tipo Tu No aspetta Tu Tu E tu Venite a fare fronti per primi Poi Tu perché mi guardi male E tu perché guardi male lui Che guarda male me Ok Il sesto colpo Lo lascio per Lascio per te Tu perché mi stai simpatico E posso attraversarti Soprattutto Mi sto avevo ragione La iniziamo da voi Spara Spara No Ehi Ah Beh Tedros è stato trovato Nel suo letto Morto per colpa Di un Golpo di pistola La polizia pensa Che sia successo Tutto quanto Per Dopo una nota Eccetera Ah Suicidi Ok Va benissimo Beh Bella canzone Solo che non ci sta E tutto quanto L.A. Peterson È stata trovata Ehm With neck snapper We are portagall And body She most obvious The victim of the prank Accordi di tutto So il 5 del tutto From the police Ah ok Ah Oh Ah Ehm Ok Ehm In pratica Sousa si un paio di casino Tutto quanto Ah Multipli of players Includi maestro Maxwell Martins And Ali Shire Reported missing But no trace of them In their facility Niente Mannequin we found With ringers of the draws present They are coming in police custody Oh Ah As they probably Will not be Returned again For this issue Complete the mess Series A Kanban To support A lot of experience Thank you for Presbytion I hope you can't have Another round of tests Ehm Ah Beh La musica non è radatta Però era carina Ah Cazzo Hai fatto tutto te Ragazzo mio Sei stato un grande Ehm Programmi usati Portal 2 Adobe Portal 2 Source Filmmaker Adobe Audition Sony Vegas Milkshape Bella canzone però Non adatta Ma è bella canzone Ok Ehm Bella mappa Anzi sono state belle tutte le tre Mi sono piaciute Questa Non mi ha spaventato come le altre Ma mi è piaciuto come le altre Almeno mi ha concluso le storie Dei tre personaggi Ehm No è stato bello Mi è piaciuto Almeno non ho dovuto tradurle troppo Spero Non devo tradurle troppo Ok E niente Ehm Lasciamo un bel like Perché mi piace questa mappa Bella 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 Torniamo alla coda Quindi Allora Da indie è tutto Ci vediamo alla prossima Se questo video vi è piaciuto Riuscite a una bella zambata Se mi piace Ehm Questo gioco mi è piaciuto Tanto Cioè Questa moda mi è piaciuta tanto Ma tanto 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 E non pensavo E È stato molto divertente E Diciamo che Vorrei trovare altre esperienze Non solo horror Vorrei avere altre mappe da fare Ehm I Su Portal 2 Sapendo che Portal Ha a disposizione Ehm Come si dice Ha a disposizione Il maker L'editor Però non ha come l'editor Che ha fatto questo Kanban Perciò non potete fare cose horror Come ha fatto Kanban Però potete fare dei bei test Quindi ragazzi Se volete farmi provare Dei test che create voi Fate pure Io sono libero Per portare altri video Sopra Portal 2 Quindi Da India è tutto Ci vediamo alla prossima Se questo video vi è piaciuto Asciutto Una bella zambata Se mi piace E noi Ci vediamo alla prossima Au Au Ciao!